E' preoccupato per questo fatto dell'acqua che si è diffuso ieri? No, perché è sbagliatissimo, perché l'hanno detto in televisione. E lei si sente tranquillo? Sì, signore. Eh, a un certo punto ce l'avevo una. E poi ho detto, ma è meraviglia, mi ha trafattato la mia figlia, diceva, va, non beve l'acqua così e così perché ho sentito... Un macello proprio, guarda. Perché? Eh, perché, perché non sappiamo come fare, anche per fare la pizza, perché dice che non bisogna nemmeno lavarsi, è una cosa personale. Svegliarsi una domenica mattina e sentirsi dire che in un'ordinanza firmata dal sindaco di Roma c'è scritto che l'acqua di rubinetto, che tutti i giorni usiamo per lavarci o peggio per cucinare, è infetta da anni da grossi quantitativi di arsenico. Una notizia che avrebbe spaventato chiunque, ovviamente, quella che ieri ha coinvolto in un primo momento tutti gli oltre 300.000 abitanti del 14esimo e del 15esimo municipio. Un allarme che per fortuna va di molto ridimensionato, anche se come abbiamo visto a Primavalle e dintorni il livello di disinformazione rimane molto alto. Una giornata difficilissima. Abbiamo passato praticamente tutta la domenica a rispondere ad sms e mail di persone allarmate, preoccupatissime per la notizia che è uscita sull'acqua che colpiva il 14esimo municipio, che è stata data in maniera sbagliata. Non è sbagliata perché la notizia c'è, ovviamente, ma riguarda mille famiglie al confine con il municipio 14 e tra le altre cose si parla dell'acquedotto dell'Arzial e non quello dell'Acea. Diciamo che questa è la classica storia un po' all'italiana, perché tutto nasce nel 1998 addirittura col protocollo d'intesa firmato dalla regione, Lazio e al Comune di Roma per il passaggio degli acquedotti. Poi si arriva al 2003 dove praticamente viene firmato un ulteriore protocollo d'intesa, dove la regione stanzia 13 milioni e mezzo di euro per procedere al modernamento della ristrutturazione. Praticamente siamo arrivati nel 2014, forse finalmente con la pubblicazione di un'ordinanza che ha scosso le coscienze che probabilmente porterà a risolvere questo problema. La delibera effettivamente non portava nessun riferimento su Prima Valle, siamo andati a leggerla immediatamente, però continuavamo a avere richieste di informazioni sul gruppo di Facebook e sulle altre piattaforme che utilizziamo di Democracy e davamo risposte a tutti quanti, attenzione, la delibera è questa, la pubblicavamo e dicevamo quali erano le mie interessate. Dio, ieri mi sono allarmata, anche perché le notizie parlavano di tutta la zona e quindi non è stata facile gestire la situazione anche con le persone che mi chiamavano. Nessun pericolo dunque per tutte quelle famiglie e quei quartieri non citati specificamente nell'ordinanza. L'assessore allo sviluppo delle periferie, infrastrutture e manutenzione urbana Masini precisa che il divieto di utilizzo di acqua per il consumo umano emesso tramite ordinanza il 21 febbraio 2014 riguarda un numero molto limitato di utenti dei municipi 14 e 15. circa 500 utenti con allaccio agli acquedotti rurali dell'agenzia regionale Arsial, Malborghetto, Brandosa, Casaccia, Casal di Galeria, Monte Oliviero, Camuccini e Piansacoccia della quale vediamo le immagini, area di villini e proprietà rurali nei pressi della Storta dove i cittadini sono preoccupati forse più per mancanza di informazioni che per altro. Quello che so l'ho letto soltanto sul giornale, il resto non lo so, non ha parlato la televisione e basta, non so, parla dei cerquetti però la zona non la specifica, la via dice via Gherasco mi pare che l'hanno già nominata poi basta, io stavo a parte dell'altra di via Gherasco quindi appartiene pure a me questa questione. Ieri sera c'erano un momento in cui un colpo ci prende, dice che non ci si può lavare, non ci si può mangiare, non ci si può fare niente, che facciamo? Ma voi l'avevate sempre utilizzata qui l'acqua di rubinetto? Certo! Qui ha avuto sempre problemi, pensavamo di risolverlo con l'acqua diretta invece in realtà non è stato risolto nulla. Perché dal rubinetto? Perché dal rubinetto esce sempre marroncina, gialletta e addirittura questi giorni che c'è stata proprio tanta pioggia, veramente marrone. Sulle bollette mi diceva che non c'è scritto niente? Non c'è scritto assolutamente nulla, niente. I problemi dunque partono da lontano, l'ordinanza di Marino ha risvegliato la questione, la disinformazione ha fatto il resto diffondendo allarmismo in tutta la popolazione. Da ieri sera nelle aree citate dall'ordinanza è attivo un servizio di autobotti, la procura di Roma ha comunque deciso di aprire un'inchiesta a seguito delle segnalazioni ricevute. Il Codacons è pronta a presentare un esposto di arsenico nell'acqua di Roma, si continuerà dunque a parlare per molto tempo a torto o a ragione.